Importanti interventi nel comune di Cartoceto per la cinta muraria del paese, un problema annoso che finalmente potrà trovare la parola fine. Sono tre infatti i luoghi individuati, Piazza Garibaldi, il tratto di Via delle Mura e l'intersezione con Via Marcolini e Via Mazzini. Costo totale di oltre 1 milione e 600 mila euro. Interventi fondamentali, imprescindibili per il centro storico di Cartoceto, non soltanto per la sua messa in sicurezza e quindi per la tutela dei residenti, ma ovviamente anche per tutto quello che invece questo rifletterà in termini di sviluppo socio-economico. Un problema annoso che caratterizza il capoluogo di Cartoceto da lontano 2012 e 2013, che rispettivamente hanno visto il crollo di un tratto della cinta muraria di Via Cavour e di Piazza Marconi. Qua in Piazza Garibaldi ci accingiamo ad avviare l'importantissimo cantiere per 810 mila euro appunto di messa in sicurezza di questo tratto, che riguarda Via Cavour, per una parte questo significherà una demolizione, una ricostruzione del muro e per un'altra invece un intervento di restauro conservativo e di cuci-scucci invece di quello che è il resto del tratto fino a Palazzo del Popolo. Per quanto riguarda Piazza Garibaldi, i lavori inizieranno a partire dalla prossima settimana per terminare all'incirca nella primavera del 2024, mentre l'area di fronte al Teatro del Trionfo, ovvero Piazza Marconi, gli interventi sono terminati. Piazza Marconi è un altro intervento recente che abbiamo concluso per 340 mila euro, molto molto importante anche perché ridà luce, lustro e piena fruibilità al Teatro del Trionfo e poi soprattutto ricordiamo che anche con il prossimo investimento che riguarderà il Teatro del Trionfo, che diventerà il primo polo performativo multisensoriale in Italia grazie all'investimento e al finanziamento di 2 milioni di euro del Ministero della Cultura, è chiaro che da questo punto di vista diventa molto molto importante la piena fruibilità di Piazza Marconi. Il terzo intervento, non meno importante, invece riguarderà Via delle Mura per 430 mila euro e qui invece si tratterà di un vero e proprio intervento di messa in sicurezza di tutta quella che è la parte che sta al di sotto di Piazza Garibaldi, di Via delle Mura e per altri invece per il secondo tratto di Via delle Mura parliamo invece di un intervento di copertura e quindi anche lì di riqualificazione e di restauro conservativo di un precedente intervento che era già stato eseguito. Infine altri finanziamenti sono stati dedicati ai sottoservizi. In quella montare totale di cui parlavo prima c'è anche un recente finanziamento da parte del Ministero dell'Interno che riguarda la realizzazione, la riqualificazione di sottoservizi in Via Marcolini all'intersezione con Via Mazzini che consentirà una miglior reggimentazione delle acque meteoriche e quindi questo sicuramente ridurrà il rischio di allagamento che invece purtroppo abbiamo visto nell'agosto del 2021. Il borgo storico di Cartoceto, finiti questi tre interventi da parte dell'amministrazione che hanno visto un impegno direi molto molto importante ma al tempo stesso concreto in questi anni perché il bilancio è all'incirca di 3 milioni e mezzo di euro spesi in interventi di messa in sicurezza e di riduzione del rischio idrogeologico, vedono mancare soltanto l'ultimo tratto finale di Via delle Mura che invece sarà un prossimo intervento su cui dovremmo mettere ulteriormente mano e poi dobbiamo dire davvero che speriamo, diciamo gli scongiuri insomma che gli interventi di messa in sicurezza all'interno del centro storico saranno finalmente terminati.